Su sicurezza e lavoro dobbiamo fare una grande battaglia culturale contro i nostri avversari, che non sono quelli che se ne sono andati via di qui. Lo dice il segretario Matteo Renzi in direzione. O Rosatellum il consultellum, terpium nundatur. Così, a quanto si apprende, il segretario spiega, che sulla legge elettorale il PD sta facendo un ultimo tentativo e pur dicendo di non andare pazzo per il tema, chiede uno sforzo ulteriore per la legge elettorale che serve all'Italia. Il Rosatellum per Renzi, ha elementi di forza sul consultellum con il PD baricentro di una coalizione più ampia. Poi il segretario scherza. Meno male che non c'è Giacchetti, perché se no ci potrebbe raccontare quante volte alcuni nostri amici hanno cambiato idea sulla legge elettorale, ci vorrebbe la VAR. Chi mi ha preceduto alla segreteria Demma? Pier Luigi Bersani, sosteneva che le preferenze fossero il problema, sottolinea.